Le prossime 48-72 ore potrebbero essere decisive per Alex Zanardi, ricoverato da 10 giorni nel reparto di terapia intensiva del Policlinico Lescote di Siena. Entro mercoledì infatti i medici dovrebbero decidere se risvegliare il campione paralimpico dal coma farmacologico a cui è sottoposto da venerdì 19 giugno. Il giorno dell'incidente lungo la strada provinciale 146 nel territorio comunale di Pienza durante la staffetta non competitiva obiettivo tricolore. Zanardi ha trascorso un'altra notte senza sostanziali variazioni delle sue condizioni visto che i parametri cardiorespiratori e metabolici rimangono stabili mentre il quadro neurologico resta comunque di assoluta gravità. Ed è questo il colossale punto di domanda per i medici che hanno in cura il campione e che ora dovranno decidere le prossime delicatissime mosse. Zanardi resta sedato, intubato in coma farmacologico. La prognosi dopo nove giorni e un intervento neurochirurgico durato tre ore resta riservata ma quella in arrivo potrebbe essere la settimana chiave, quella in cui i medici potrebbero decidere di diminuire il dosaggio dei farmaci e di risvegliarlo così dal coma. Una scelta su cui l'equip multidisciplinare che segue il campione bolognese sta lavorando da giorni attraverso il monitoraggio dei suoi parametri. Solo una volta presa la decisione in accordo con la famiglia potranno essere eseguiti gli esami strumentali per valutarne le condizioni neurologiche.